Sostenibilità. 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 Abbiamo obiettivi concreti da realizzare entro il 2030 per superare la crisi e raggiungere la sostenibilità economica, ambientale e sociale. Ci sono decisioni importanti da prendere. Adesso. Subito. Insieme. Sostenibilità. È ora di agire. Partecipa al Festival dello Sviluppo Sostenibile 2020 in tutta Italia online dal 22 settembre all'8 ottobre. Sostenibilità.